buongiorno a tutti benvenuti anche quest'oggi su investire.biz ben ritrovati come di consueto alla rubrica caffè e mercati un saluto come sempre da riccardo zaga andiamo a fare una panoramica generale sui mercati finanziari ieri indici azionari che con l'apertura americana danno una spinta rialzista veramente molto molto importante abbiamo dei volumi molto forti in apertura americana eppure in chiusura quindi abbiamo sostanzialmente un trading range molto importante che adesso andiamo a vedere cerchiamo anche di sfruttare poi chiaramente aggiorniamo tutti gli altri strumenti gold che ha raggiunto la soglia dei 1970 dollari per oncia e petrolio che ha raggiunto la soglia dei 100 dollari al barile e da lì i prezzi poi sono scesi con forza prima di andare sui mercati però ricordo a tutti quanti che è proprio in questi momenti di tensione che vi si fanno i migliori affari e ricordo che la prossima settimana inizia il corso sulle criptovalute from zero to zero lo trovate qui eccolo qui ancora in sconto del 50 per cento mancano ancora mancano ancora pochi giorni non ci sono tantissimi posti lo potete acquistare qui al quindi 50 per cento di disconto gli argomenti che verranno affrontati sono sono veramente molti un attimo che andiamo a vedere dove trovarlo eccolo qui quindi andiamo nella sezione corsi scusate non vi stavo facendo vedere lo schermo eccoci qui from zero to hero e lo trovate qui quindi ragazzi io me lo studierò perché sono abbastanza esperto di criptovalute ma non a tal punto io ho già visto tutte le slide del corso devo dire che anche anche per il sottoscritto c'è da imparare molto detto ciò però andiamo sui mercati e andiamo a vedere quelle che sono quelli che sono gli strumenti più interessanti guardate il time frame settimanale del nasdaq 100 guardate come i prezzi hanno reagito a alla cumo quindi alla parte bassa della nuvola un supporto molto importante qui troviamo un'area molto molto chiara insomma questa qui dei 13 dei 13 mila punti come detto rotta questa abbiamo un altro livello in area 12.500 e poi vedete ho cerchiato qui un'altra area molto importante in area 11.750 qual è quest'area perché ho segnato ho segnato quest'area eccola qui se andiamo sul time frame a mensile notiamo che qui troviamo la linea chisho dell'indicatore cimaco quindi questi sono i livelli più importanti attenzione invece ad aprire nuove posizioni rialziste perché è vero che eri c'è stato un fortissimo rialzo però prima di entrare long dobbiamo attendere a mio avviso non è il caso soprattutto in questo momento di prendere delle posizioni rialziste magari anche in ottica multiday però andiamo avanti andiamo avanti perché come dicevo dobbiamo commentare l'apertura americana di ieri che vediamo qui in parte sul nasdaq ma vorrei vederla più nello specifico all'interno dell'indice americano s&p 500 anche il nasdaq è americano però qui troviamo le 500 aziende a maggior capitalizzazione quello che vedete qui è un time frame a 5 minuti quindi ogni candela 5 minuti di contrattazioni vedete l'apertura americana di ieri qui con forti volumi ha portato a un rialzo veramente incredibile quindi attenzione perché rotta questa zona supportiva si aprono degli spazi importanti quindi 4.000 abbiamo questo lo togliamo tutta la soglia compresa tra i 4.120 4.140 è sicuramente da attenzionare l'ho cerchiata qui per quanto invece riguarda la chiusura di ieri sera la troviamo qui quindi attenzione perché qui sono aumentati tantissimo i volumi quindi si è creato un muro quindi attenzione alle resistenze nella 4.275 4.290 non si aprono posizioni rialziste fin quando questa zona non viene rotta rialzo attenzione ragazzi non facciamo cavolate non andiamo a perdere soldi questa settimana è andata molto bene l'unica cosa che possiamo fare è quella che vi sto disegnando sul grafico altrimenti per i più aggressivi rimanendo sempre sul time frame a 5 minuti possiamo valutare invece uno short da questa zona andando poi alla ricerca di livelli intermedi che segnalerò come sempre all'interno del gruppo traders club bene andiamo a concludere la video analisi di quest'oggi con che cosa con bitcoin bitcoin che ha testato la soglia dei 35 mila dollari un livello molto importante vedete ieri spike ribassista molto importante è un buon segnale non posso dire che siamo all'interno del trend rialzista io pensavo di essere già all'interno del trend rialzista però i prezzi mi hanno smentito qui vedete qui c'è stata la rottura ribasso però i minimi precedenti non sono ancora stati rotti ieri è stato un test molto importante facciamo però anche qui attenzione a comprare solo perché vediamo questo rialzo perché qui non si compra fin quando non torniamo al di sopra dello spike che è stato fatto ieri quindi sopra i 39.000 barra 39.600 e 60 dollari mi raccomando attenzione perché la volatilità rimarrà alta direi che con questo abbiamo visto tutto spero che sia stata una buona settimana anche per voi io vi saluto vi invito al webinar del lunedì ci sarà anche il relatore del corso sulle criptovalute e quindi vi aspetto come sempre lunedì alle ore 18 buona giornata buon trading a tutti ma soprattutto un buon weekend